Sì, erano attesi perché questa è una bella infrastruttura di collegamento, una bella ciclabile che collega un quartiere verso il centro, poi con altre opere arriverà fino al mare. È un'opera in sicurezza, fra l'altro molto utilizzata, ma mancava ancora un intervento ulteriore, cioè l'illuminazione. Sappiamo quanto è importante la sera, specialmente in questa parte dell'infrastruttura e quindi stasera era un impegno che ci eravamo presi e stasera finalmente inauguriamo la nuova illuminazione della pista ciclabile di Fenile. E' un momento importante che va a coronare un ulteriore passo in avanti della scelta che abbiamo fatto in questi anni, dove aggiungiamo ogni anno pezzi di ciclabile oppure completamente come in questo caso, ma ne seguiranno anche delle altre. Quindi era molto attesa dalla comunità. Voglio ringraziare tutti coloro che negli anni si erano impegnati per la ciclabile, a cominciare dal professor Orlando Bizzocchi che è sempre stato un promotore. E allora anche in questi momenti è giusto ringraziarli. Un'opera che era stata realizzata con la collaborazione tra l'amministrazione e l'amministrazione provinciale. Quindi è un bel momento, una bella serata, una bella opera. Grazie a tutti.